Parliamo della gara per l'ILBA, è illegittima ma non si può annullare, così ha spiegato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio illustrando il parere dell'avvocatura sulla cessione della più grande acciaieria integrata europea al colosso franco-indiano Arcelor Mittal. Per parlare degli scenari futuri dei stabilimenti e dei suoi 14 mila dipendenti ci colleghiamo con Ancona dove abbiamo Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora Bentivogli, la gara è illegittima ma non si può annullare, secondo il ministro. Potrebbero presentarsi altri pretendenti così da consentire al governo di riaprire i giochi? E come sbloccare la situazione? Ma intanzitutto va sbloccata interrompendo questa ossessione che il ministro ha nei confronti del suo predecessore e comprendendo che non è più all'opposizione in campagna elettorale ma deve assumersi qualche responsabilità. In realtà non è vero quello che ha detto perché sia l'ANAC sia la stessa avvocatore dello Stato hanno detto che il ministro ha la facoltà di annullare la gara. Per cui se ritiene, come ha detto per ben cinque volte durante la conferenza stampa, un ministro che fa più conferenze stampa che confronti sindacali, ha fatto solo quattro incontri in quattro mesi con noi, annulli la gara. Si assuma le sue responsabilità. Cercare qualcun altro che l'annulli al posto suo è assolutamente ridicolo, altrimenti diventa un po' complicato fare una trattativa sindacale per noi con un acquirente che lui considera di fatto illegittimo. E' chiaro che se si vuole riaprire la gara bisogna annullare questa e bisogna soprattutto accettare che ci sia un contenzioso con chi ha vinto la precedente gara. E rischiamo di pagare centinaia di milioni di euro nell'amministrazione straordinaria che lui stesso ha prorogato di altri tre mesi, che scade il 15 settembre, spese a carico dei contribuenti e degli italiani e di pagare magari la penale con chi ha vinto la gara. Ecco, il ministro sta letteralmente giocando col fuoco, non considerando che l'impianto è sempre più pericoloso per i lavoratori e che sta rallentando le opere per ambientalizzare. In quattro mesi ha dato ragione a chi vuole chiudere l'azienda e a chi la vuole rilanciare ambientalizzandola. Ci sembra un cerchio bottismo non degno di chi vuole guidare il cambiamento. Parliamo di date. Il 15 settembre Arcelor Mittal dovrebbe subentrare nella gestione commissariale, lo ricordiamo anche per i telespettatori. Di Mario ha invitato i sindacati a tornare al tavolo. Voi lo farete e soprattutto a che condizioni? Noi non rifiutiamo mai le trattative, ma come si fa a fare una trattativa con un'azienda che lui ha giudicato oggi stesso e in tutta questa fase un acquirente illegittimo? A che titolo dovremmo fare un accordo sindacale con un acquirente illegittimo che è illegittimamente titolare della cessione che gli è arrivata? Questa è una cosa inaccettabile. Come è inaccettabile che non si mostri immediatamente il contenuto del parere dell'Avvocatura dello Stato? Noi abbiamo fatto ben tre scioperi con il precedente governo, fino adesso non abbiamo fatto per dire che non abbiamo nessun pregiudizio con questo governo, neanche un'ora di sciopero. È chiaro che quello che sta facendo è assolutamente questo, sì il delitto perfetto. Cioè voler chiudere l'azienda ma facendolo fare una manina invisibile, diversa dalle sue, di modo che lui non abbia in ogni modo qualche responsabilità. Questo capisce bene che non è possibile, non è accettabile. Siamo il Taranto e il Siderulcico più grande d'Europa e stiamo in questa fase importando acciaio dalla Germania per fare le automobili, gli elettrodomestici, le navi che si producono in Italia. Bisognerebbe smetterla di chiamarli sovranisti perché chi non tutela neanche la sovranità industriale di questo paese con la sovranità dell'Italia ha ben poco a che fare. Sta facendo grandi favori alla Germania questo governo. Allora parliamo della prassi perché un subentro senza accordo è possibile però ovviamente bisogna capire come è realizzabile nella pratica. In questo caso voi come vi regolereste? Certo è la condizione peggiore. Noi abbiamo spiegato all'azienda che bisogna avere un organico di partenza diverso da quello che lei ha in mente. Non ci devono essere esuberi, bisogna contrattare le condizioni di lavoro, che non ci siano diminuzioni salariali, che ci sia un'offerta occupazionale per tutti i lavoratori e che abbiano una garanzia occupazionale. Questo è fondamentale accanto alla parte ambientale. Ci sono prescrizioni dell'AIA che vanno previste anticipando i tempi come si è detto anche negli ultimi due incontri. Questo è quello che bisogna fare, ma per fare delle cose bisogna assumersi delle responsabilità. Se si sta al governo credendo di stare contemporaneamente all'opposizione si fa questa grande confusione utile a chi gli piace tanto la disinformazione, che gli piace urlare contro le altre persone, ma questo è un paese che ha bisogno di grande unità e di ripartire mettendo un piede davanti all'altro per leccarsi le ferite della crisi e uscirne più forte possibilmente. Lei si è già espresso, ma volevo tornare su questo risvolto. Qual è la sua sensazione? L'ILVA è destinata a chiudere o il governo è realmente intenzionato a rilanciarla in fin dei conti? In fin dei conti bisogna vedere perché io che sono tra coloro che vogliono un'ILVA rilanciata ma assolutamente ambientalizzata, mi sono sentito coinvolto in un negoziato in cui ho avuto la stessa soddisfazione di coloro che invece vogliono un'ILVA chiusa e fare altro. Io credo che il ben altro non ci sia, ma è un'opinione legittima come è legittima quella di chi vuole chiudere. Non è legittimo fare come fa il ministro, dar ragione a tutti i due. Non si può dar ragione a chi vuole chiudere l'ILVA e a chi la vuole tenere aperta contemporaneamente. Queste sono cose che non sanno di nuovo, sanno di un cerchio bottismo che è molto pericoloso, perché governare significa soprattutto decidere e assumersi le responsabilità di queste decisioni. Scaricare continuamente dall'ANAC all'Antitrust, al TAR, all'Avvocatura dello Stato, oggi si è ripreso altri 15 giorni scaricando sul ministro Ero dell'Ambiente. Così non è governare, così è essere vittime di un'ossessione, avere il terrore di decidere perché le decisioni scontentano sempre qualcuno. Ecco, chi vuole, ma questo vale anche per i sindacalisti, prendere delle decisioni e avere tutti d'accordo è meglio che cambia mestiere perché probabilmente qualsiasi decisione, soprattutto quelle più giuste, hanno spesso persone che non sono d'accordo. È normale, naturale, in democrazia. Ringraziamo Marco Bentivogli, segretario generale Tim CISL, per essere stato in diretta con noi. Le auguriamo buon lavoro. Grazie, anche a voi.